salve ragazzi e benvenuti su the surge nuovo souls like ad opera dei dec 13 dec 13 che sarebbe il team che ha sviluppato lords of the fallen e questo titolo ha parecchie similitudini con lords of the fallen ma fortunatamente migliora anche tante cose che cominciamo magari con la questione crescita del personaggio e potenziamento perché un po particolare come funziona dunque avete queste stazioni qua sparse in giro per i livelli sono le med bay sono delle zone sicure l'equivalente dei fallò poi man mano che ammazzate nemici ottenete scarti tecnologici sono l'equivalente delle anime queste li potete usare per aumentare il vostro livello per salire di livello aumentare fondamentalmente l'energia nucleare viene chiamata così quando sorge questa qua è importantissima perché serve per fare un po di tutto dunque se diamo un'occhiata alla tabella delle statistiche vedete che mancano skill tree vero e proprio abbiamo valori d'attacco valori di difesa abbiamo dei valori bonus in base all'armatura che abbiamo su e la maestria delle armi così anche come quel bonus 7 attrezzatura che spiegherò dopo infatti ogni volta che livellate non ottenete dei punti da spendere in statistiche semplicemente salite di livello aumentate la capienza del vostro nucleo dell'energia nucleare e questo vi permette di installare chip più capienti avete degli impianti che vi aumentano energia aumentano salute ma vi forniscono anche attributi bonus come possibilità di recuperare vita dai critici dalle finisher consumare meno energia con gli attacchi eccetera eccetera questi qua vanno inseriti in questi slot e ognuno di questi chip porta via un certo quantitativo di energia vedete quel consumo di energia nucleare pertanto più salite di livello più chip capienti potete equipaggiare è un sistema che funziona in maniera molto simile a quello dei chip di nira automata davvero molto simile inoltre il nostro esoscheletro la nostra armatura è composta da sei pezzi due gambe due braccia torso e testa e ognuno di questi è liberamente modificabile tutti questi pezzi si possono craftare o potenziare inoltre abbiamo anche un drone da combattimento che può essere equipaggiato con delle abilità uniche senza contare che tutte le parti di equipaggiamento che indossiamo si danneggeranno nel corso del dei combattimenti subendo danni questi si danneggiano pertanto andranno riparati utilizzando dei materiali di scarto ed è molto interessante il processo dal momento che l'acquisizione di questi materiali e soprattutto gli schemi per il crafting è parte integrante del combat system e lo vediamo fra un attimo dunque diamo un'occhiata veloce al crafting per quanto riguarda il crafting abbiamo quattro livelli di rarità per gli equipaggiamenti ogni livello chiaramente costa più risorse e materiali senza ombra di dubbio però vedete che ogni singolo pezzo di equipaggiamento ogni set d'armatura fornisce anche dei bonus specifici un'armatura più capiente vi fornirà più scusate più capiente più resistente vi fornirà maggiore protezione ma vi diminuisce la mobilità aumenta il vostro consumo di stamina e cose di questo genere questo si può fare anche per le armi le armi altrettutto hanno anche un sistema di familiarità molto interessante dunque prima di passare al gameplay vero e proprio diamo giusto una brevissima occhiata al menu delle impostazioni su pc perché veramente è un menu di quelli fatti veramente bene the surge infatti abbiamo veramente un ottimo livello di personalizzazione sotto il gameplay guardate le quante opzioni che abbiamo ci sono delle cose veramente molto utili che possono fluidificare notevolmente la vostra esperienza di gioco in special modo c'è questo rallentamento e frequenza delle sequenze di uccisione che secondo me va abbassato perché questo gioco di default ha un sistema che ogni volta che infliggete un colpo rallenta leggermente l'azione rallenta il tempo un po come nei vari batman no per enfatizzare il colpo rallenta tutto quanto questo anche durante le finisher voi potete disattivare questi effetti per fluidificare notevolmente il gameplay questo è veramente un'ottima aggiunta quanto riguarda le impostazioni grafiche sono abbastanza standard abbiamo questo chroma shift che io disabilitato perché onestamente non vedo la differenza e ho notato che modificando tra ultra e alto non c'è una gran differenza in prestazioni tra l'altro c'avevo sulle fx ea come anti aliasing non so perché sma di modo ho notato che non cambia tantissimo quello che fa stato sono questi tre effetti qua sub surface scattering ambient occlusion e screen space reflection pertanto se avete una macchina che fa un po fatica non è tanto la qualità delle texture così via ma più che altro sono quegli effetti lì poi vabbè audio controlli totalmente rimappabili pertanto veramente un livello di personalizzazione consono alla piattaforma su cui gira davvero un ottimo lavoro quindi passiamo al gioco vero e proprio la cosa che interessa un po a tutti dunque il sistema di movimento cominciamo con questo è davvero molto simile a quello visto in lords of the fall la pesantezza dei movimenti è quella anche se c'è decisamente una maggiore mobilità e precisione cosa che mi ha dato parecchio fastidio il fatto che il salto è legato allo scatto puoi saltare solo scattando infatti lo scatto permette di fare molteplici azioni in combattimento è molto importante l'attacco in schivata per l'appunto si attiva proprio scattando questa è la schivata normale vedete l'animazione è un po così si possono fare anche degli attacchi in schivata ma soprattutto scattando si può attivare l'attacco in salto davvero molto particolare ma soprattutto molto utile dunque parlavo prima della questione del crafting eccetera eccetera come fa parte integrante del gameplay allora diamolo magari su sto nemico voi quando loccate un nemico vedete che potete selezionare le varie parti del corpo magari sto qua lo faccio fuori nella maniera classica perché non è proprio piazzato nel posto migliore voi potete selezionare le varie parti del corpo e alcune parti del corpo saranno in giallo alcune parti del corpo saranno in blu quelle in giallo sono parti corazzate queste qua se le distaccate dal corpo dell'avversario tramite delle finisher vi permettono di ottenere i suddetti pezzi d'armatura quindi se gli staccate un braccio come in questo caso vedete otteniamo il braccio l'armatura per il braccio la parte di quell'armatura lì per il braccio che può essere craftata alla nostra base e così via quindi ogni nemico con una nuova armatura con una nuova arma possibilmente dovete cercare di staccargli le varie parti corazzate per ottenere i pezzi pezzi d'armatura per craftarvi un nuovo set d'armatura funziona così praticamente tutte le armi e gli equipaggiamenti si ottengono in questa maniera in combattimento e è una scelta puramente opzionale dal momento che le parti corazzate ovviamente renderanno i nemici più tosti mentre le parti in blu le parti non corazzate vi permetteranno di ucciderli con molti meno colpi e notate che questa cosa può essere fatta solo esclusivamente con le finisher come si attivano le finisher è un sistema un po particolare diciamo che è un'evoluzione di quella vista in lords of the fallen se vi ricordate lords of the fallen c'era questa questione del del ritmo dell'armonia della stamina se voi concatenavate gli attacchi in maniera corretta consumavate meno stamina e potevate innescare delle combo molto interessanti qui è cambiato il discorso non è più così in quanto mettendo a segno attacchi consecutivi alzate una barra che è quella terza barra sotto la stamina la barra blu la barra energetica alzando la barra energetica vedete che ci sono dei contatori su questa barra quando li raggiungete potrete fare una finisher pertanto dovete prima attaccare il nemico per poi fare una finisher in pratica il sistema di combo visto il lord of the fallen è stato evoluto in questa maniera e questo è estremamente importante perché ci sono anche dei degli innesti dei chip che ad esempio funzionano proprio con quella meccanica lì ad esempio c'è un chip che vi permette di curarvi utilizzando l'energia pertanto dovete attaccare per recuperare energia e poi utilizzare un chip per potervi curare cose di questo genere pertanto il combat system si basa esclusivamente su queste due meccaniche qua cioè esclusivamente adesso sembra quasi riduttivo ma si basa principalmente su queste due meccaniche qua alzare il contatore per innescare le finisher e soprattutto utilizzare le finisher sulle parti corazzate per distaccare i pezzi e ottenere gli schemi oltre abbiamo varie categorie di arma adesso io utilizzavo la spada perché diciamo la più rapida però questa qua ad esempio è un'arma che ho ottenuto dal primo boss e il moveset cambia notevolmente però dal momento che è un'arma lenta un'arma pesante difficile da maneggiare comunque stordisce anche molto più facilmente è quasi più facile giocare con le armi con le armi pesanti all'inizio se è come lords of the fallen diciamo che è un po lo stesso sistema molto più facile perché fai un sacco di danni sono più lenti fai un sacco di danni poi ovviamente man mano che sali di livello man mano le armi le armi leggere con l'aumento della stamina diventano più efficaci perché hanno un dps maggiore eccetera eccetera allora per il momento non ho visto un granché di armi ci sono questi martelli pesanti che da notare non hanno lo stesso moveset dell'arma che sto usando adesso ci abbiamo una spada ci abbiamo un bastone una sorta di staffa come lords of the fallen fondamentalmente e poi cos'è che abbiamo ancora sì abbiamo un'altra arma simile a questa che ha una carica una carica elettrostatica però il moveset cambia per ogni arma adesso non so esattamente quante armi ci saranno per il momento sono solo queste e il feeling che restituiscono è buono non è affatto male è abbastanza divertente come combat system c'è da notare però che nonostante sia un souls like il combat system il feeling delle armi non assomiglia assolutamente a quello dei souls è molto più vicino diciamo a darksiders o per certi versi anche ai vari batman come ho detto prima soprattutto per la pesantezza dei colpi per l'enfasi che viene data il feeling che restituisce è quello fondamentalmente inoltre è anche decisamente molto meno preciso come combat system molte volte le collisioni non sono proprio ottimali le hitbox molte volte si attivano anche da molto lontano senza contatto fisico è un po' più arcade diciamo ha però un buon sistema di combo dal momento che avete due tipologie d'attacco al posto di avere attacco pesante e attacco leggero avete attacco orizzontale attacco verticale questi qua se li intercalate create delle combinazioni delle combo diverse è molto simile a lords of the fallen in tal senso funziona in maniera simile e non ci sono solamente due combo per ogni arma ma ci sono molteplici combo a dipendenza di quanti tasti pigiate pertanto è già un po' più arcade di stampo un po' più arcade però però appunto non è precisissimo soprattutto le collisioni come ho detto non sono precise bisogna fare attenzione quando si utilizza gli attacchi gli attacchi critici le finisher perché queste qua non si attivano istantaneamente infatti dovete tener premuto il tasto d'attacco per farla per attivarla per farla entrare non è un quick time event istantaneo no e la stessa cosa succede con la raccolta degli oggetti eccetera eccetera è un sistema un po' scomodo perché magari ad esempio come è capitato a me cioè muori in un punto e qua come nei souls quando muori come nei souls o anche come lords of the fallen quando muori perdi tutti i tuoi frammenti di tecnologici i tuoi scarti tecnologici le tue anime fondamentalmente restano in un punto e c'hai anche un timer hai un tot di tempo per recuperarle se non le recuperi entro quel tot tempo le perdi esattamente come lords of the fallen mi è capitato ad esempio che sono morto in un punto e la mia pozza di sangue chiamiamola così è rimasta in mezzo a due nemici quando io sono andato a recuperarla questi qua mi hanno attaccato subito pertanto non basta semplicemente passarci sopra e premi al volo e le recuperi no devi tenere premuto il tasto e rischi di beccarti delle legnate e addirittura morire e perdere tutto quanto quindi non è un sistema proprio comodissimo onestamente va fatta l'abitudine pertanto se vi aspettate un feeling molto simile a quello dei souls no non è questo il caso è molto più simile a lords of the fallen pertanto se non vi è piaciuto il combat system di lords of the fallen non lo so se vi piacerà questo qua cioè è leggermente più veloce è un po più reattivo e c'è un po più di praticità però è fondamentalmente lo stesso non lo so ho visto che ci saranno anche armi elementali e cose di questo genere sono molto curioso di vedere come si sviluppano però non lo so non è che mi entusiasma tantissimo è divertente per l'amor di dio è piuttosto divertente però c'è un qualcosa che non mi acchiappa più di quel tanto raccolate che sono solo all'inizio sono un paio d'ore che ci gioco quindi probabilmente migliorerà però mi assomiglia veramente troppo a lords of the fallen per certi versi è un bene per certi versi non è proprio un bene l'ambientazione però non è affatto male è creata con cura lo stile sci-fi c'è tutto industriale sci-fi molto carino sembra esserci una buona varietà per il momento e soprattutto quello che mi ha impressionato sono le mappe le mappe sono piuttosto vaste ci sono veramente un sacco di percorsi alternativi inoltre anche lì per sbloccare le shortcut c'è una meccanica molto particolare dal momento che la maggior parte delle shortcut si possono sbloccare solo esclusivamente possedendo un quantitativo sufficiente di energia del vostro nucleo dal momento che richiedono un sovraccarico ci sono dei terminali che vanno sovraccaricati solo esclusivamente se siete a un livello consono potete farlo potete farlo quindi se non siete a un certo livello quella scorciatoia non potete non potete sbloccarla pertanto dovete livellare il vostro personaggio dovete potenziarvi per non solo andare meglio nel gioco ma anche per sbloccare le varie scorciatoie per facilitarvi il progresso all'interno dell'avventura l'esplorazione degli ambienti di gioco quell'aspetto lì è ben riuscito è carino lo stile non mi fa impazzire forse perché ultimamente ho giocato a parecchi titoli che abbracciano questo genere un genere sci-fi prei su tutti forse sono un po' satro quindi non mi emoziona un gran che però non è affatto male non è affatto male è bello vedere qualcosa di diverso vedere un un souls like ambientato in un ambiente sci-fi ci sta non è male sono curioso di vedere più avanti come si evolve questo stile soprattutto il design delle armature delle armi soprattutto quelle dei boss sono curioso di vedere spero che siano veramente uniche ben realizzate addirittura con moveset abilità uniche spero spero che vadano in quella direzione una buona quantità di roba perché al momento attuale come ho detto sono passate neanche due ore è normale avere poca roba però quelle poche quelle poche armi disponibili benché abbiano un moveset differente c'è un po' tutte lo stesso feeling e soprattutto sono veramente molto simili a Lords of the Fallen più veloce più reattivo però veramente molto simili quindi lo ribadisco se non vi è piaciuto il combat system di Lords of the Fallen questo questo destroyer potrebbe non piacervi come invece potrebbe anche piacervi perché magari quel piccolo miglioramento che hanno fatto per voi è abbastanza non lo so se decidete di prenderlo su pc di provarlo su pc provatelo c'è sempre il sistema di di rimborso se proprio non vi piace potete darlo indietro però io consiglio di provarlo onestamente non lo so come ho detto non mi fa impazzire è carino è particolare e soprattutto c'è una narrativa decisamente molto più predominante rispetto a on Souls ci sono proprio dialoghi parti di trama cazzina addirittura insomma è molto differente l'approccio in tal senso è già più facile da seguire anche se tu comunque puoi ignorare molte cose adesso questo qua ad esempio è un NPC ci sono alcuni NPC che ti chiedono dei favori quindi ci sono anche delle subquest è un po' lo stile Souls-like è quello che qui siamo abituati oramai ambiente di gioco ostile difficoltà estremamente elevata qui i nemici picchiano tosto veramente molti nemici ti bisciottano al mio livello attuale sono a livello 24 25 ti bisciottano fanno un sacco di danni e quindi è bello tosto l'atmosfera non è lugubre assolutamente è piuttosto ispirata e tanta enfasi nel combattimento quindi a grandi linee diciamo questo è un po' un po' The Surge non è male ci sono delle idee carine spero che si sviluppano bene tutto questo discorso del vostro nucleo energetico che vi dà la forza di equipaggiare chip più forti così come vi permette anche di sbloccare le shortcut o di equipaggiare pezzi di equipaggiamento più pesanti gira tutto attorno alla capienza la capienza del nucleo che è direttamente legata al livello del personaggio però è interessante perché si applica a vari aspetti del gameplay quindi è interessante sono curioso di vedere cosa c'è più avanti spero che non si fermi a questo spero che non si fermi a questo inoltre c'è anche una buona distruttibilità degli ambienti di gioco ci sono tante cose da distruggere per cercare oggetti e tesori nascosti una buona una buona interattività con lo scenario non lo so promette bene anche se comunque come ho detto non è un souls like nella media il potenziale ce l'ha dipende tutto da cosa da cosa hanno fatto più avanti da come lo hanno sviluppato speriamo in bene qui intanto abbiamo sbloccato una scorciatoia che questa dovrebbe riportarmi al prossimità del del mad bay queste queste zone sicure se non erro è proprio questo qua si ci sono tanti tanti percorsi alternative tante scorciatoie tante tante esplorazioni insomma quindi almeno sotto quell'aspetto lì decisamente non delude d'altronde pure lords of the fallen era piuttosto piuttosto ben fatto in tal senso l'esplorazione degli ambiti di gioco era piuttosto interessante c'erano un sacco di segreti nascosti non lo so come ho detto è discreto carino ha del potenziale io lo consiglio onestamente però con una certa riserva perché come ho detto se non vi è piaciuto lords of the fallen questo qua potrebbe potrebbe non piacervi tutto lì graficamente gira piuttosto bene come ho detto registrando io perdo un sacco di qualità proprio shadow play mi ammazza il frame rate quando non registro tenendo tutto su alto calcolando che è una 970 quindi sono un po' a brucio con i requisiti mi gira piuttosto bene i 60 frame li tiene più o meno bene cala piuttosto spesso soprattutto quando ci sono un sacco di nemici però come ho detto questo probabilmente è dovuto alla debolezza della mia della mia gpu probabilmente è quello comparto tecnico però graficamente cioè proprio a livello di texture dettaglio tutto quanto è piuttosto piuttosto buono quindi non delude in tal senso è stato niente dire che queste sono un po' le mie opinioni le mie prime impressioni su the surge ragazzi io vi ringrazio come sempre per l'attenzione statemi bene e ci sentiamo molto presto con la recensione di the surge fino ad allora bye bye ciao